Presidente Di Girolamo, ancora una volta Pescara ospiterà un grande evento della FISPIC. Sì, io sono felice di essere qui a Pescara, di poter portare un'altra attività della nostra federazione qui in comune a Pescara e soprattutto in Abruzzo facciamo conoscere il calcio a 5 per i povedenti. Grande soddisfazione soprattutto perché abbiamo la nuova società, la Fenice, che organizza sul territorio che comunque per loro è un evento perché nuova società è subito un'organizzazione di una manifestazione importante. Siamo anche reduci dall'evento dello Stadio Adriatico di Pescara, abbiamo fatto tre dimostrazioni all'interno della partita Pescara-Lanciano e questa secondo me a livello mediatico è stata una cosa bellissima, ma a livello nazionale stiamo andando veramente forte perché comunque finalmente cominciamo a far conoscere queste attività, cominciamo a far capire alla gente che effettivamente questi ragazzi sono atleti veri perché fino a pochi anni fa il non vedente passava come il povero cieco ma adesso finalmente abbiamo veramente fatto capire che cos'è questa federazione e veramente questi atleti lo sport vero che fanno.